Scatta il weekend del Gran Premio di Indianapolis, decima prova del Moto Mondiale in programma domenica sull'omonimo circuito a stelle e strisce. Obiettivo fermare lo strapotere dell'Iberico Marquez che punta alla decima vittoria, ma Valentino Rossi e Danny Pedrosa sperano di guastare la festa. Nel pomeriggio italiano le libere, domani quelle ufficiali per stabilire la griglia di partenza.